Abbiamo ribadito al Presidente Zelensky il nostro sostegno a 360 gradi verso l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e oltre. La nostra nazione continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale, continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all'applicazione rigorosa delle sanzioni, così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace, purché sia una pace giusta. Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa somigliare a un'invasione. Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all'Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l'Italia continuerà a contribuire a ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione. Continueremo in accordo con i nostri principali alleati a fornire il sostegno necessario anche militare perché l'Ucraina possa arrivare, auspichiamo quanto prima, a un tavolo di negoziati in una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa. Da parte dell'Ucraina sarebbe terribilmente ingiusto ma sarebbe anche molto pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per tutte le nazioni del mondo. Alla pace si arriverà solamente se e quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili. Noi vogliamo approfittare per rinnovare il nostro appello a Mosca a fermare immediatamente l'aggressione e a ritirare immediatamente le truppe dal territorio ucraino.